Guardalo, Giuseppe Scoditti, a te la linea. Grazie, grazie Stefano De Martino, sei un bomberone. Ora presentiamo gli ospiti di oggi, Fra Signorino, Fra e Basta e Fra Polo Gang. Bella fratellino Beppe, bella fratellino. Ciao ragazzi, grazie per essere qui. Voi siete monaci trappisti. Puoi dirlo forte, baby. Siamo noi, frate. Amen, bitch. Bella raga, sono molto felice di avervi qui. Cominciamo subito l'intervista. Io vorrei chiedervi, in che momento della vostra vita vi trovate, personale e di gruppo? Beh, ringraziando il Signore possiamo flexare alla grande, fratellino, perché stiamo spaccando. Stiamo veramente spaccando, frate. Quag. Sì, sì, è vero, effettivamente state proprio spaccando, raga. Però, insomma, cominciate a costruirvi degli haters, no? Che rapporto avete con questi haters? Orazioni e benedizioni per tutti e sempre. Love, 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 love. Frate, love. Lo vini, lo vini per tutti, ci sta, ci sta. Bella raga, ci sta, assolutamente. Ecco, io vorrei chiedervi, ragazzi, ma il monastero è una scorciatoia o la strada più difficile? Questa è seria, bitch, rispondi tu, frate. Rispondi, frate. Ah, probabilmente è un modo per salvarti dalla fine che potresti fare, perché alla fine è sempre Dio che ti salva. Amen, bitch. Ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta, assolutamente. Io vorrei chiedervi come avete cominciato la vostra carriera. Ma diciamo che è iniziato tutto le scuole medie, dove abbiamo incontrato il mondo del Signore. La religione. Esatto, esatto, la religione, frate. E poi lì abbiamo iniziato con le nostre prime preghiere. Eh, diciamo che eravamo dei fottuti somari. C'è ragione, frate. È uno snitch continuo, cioè, mi piaceva solo l'ora di religione. Vabbè, lì ho scoperto i Vangeli, ho scoperto, le prime lettere di San Paolo e Corinzi, che vabbè, sono le più famose, quelle che conosci per prima. Ora, le mie prefe sono le lettere ai Tessalonicesi. Tessalonicesi, top. Best lettera. Eh, sì, top, top. Quindi, insomma, chi è il vostro evangelista preferito? Beh, se me lo chiedi adesso, io ti dico bella per Luca. No, Luca, Marco. Marco, spade. Lo so, lo so, frate, ma Luca deve sentire proprio il messaggio teologico che c'è sotto. È vero. È il viaggio da Nazareth a Gerusalemme, vabbè. C'è ragione. Discorsi troppo grossi per farli adesso. Però, una cosa è certa, viva tutte le Sacre Scritture, tutti i Vangeli perché sono tutti la parola di Dio. Amen, bitch. Top, top. Vi fidanzereste mai con una vostra fan? Mai. Sei matto, frate. Mai, cazzo, vino alla morte, lo dice anche il nome. Frate e basta. Frate e basta. Anche io fra signorino perché non mi sposerò mai, frate. Che consigli daresti a un monaco emergente? Non farti monaco, ci siamo già noi. Let's get it! No, però, però, aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Io vorrei chiedere una cosa. Buonasera e chiuso. Aspetta un attimo. Nel senso, cioè, voglio dire, comunque, cioè, frati, voglio dire, voi avete comunque creato un vostro bacino. Bacini e cuoricini. Esatto, esatto. Delle persone che vogliono essere come voi. Diamo un consiglio oppure no way, nessuna speranza. Va bene, allora diciamo, fai sempre quello che ti dice il tuo cuore, ma soprattutto quello che ti dice il Signore. Fai quello che ti dice il Signore e spaccherai il culo a tutti. Bello, frate. Quag, chi è il vostro leader? Sempre lui, Signore Dio. L'unico è solo. E la Madonna anche. Ci sta, ci sta. La Madonna ci sta. Ci sta, grazie, grazie raga. Fuori domani, su tutte le piattaforme, il nuovo singolo dei monaci trappisti, Cappuccino. Ascoltate piano che scotta. Grazie, 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 grazie.